Dal 1967 l'autocarrozzeria a sella è al vostro servizio, con tempestività e rispetto dei tempi di consegna. Il suo personale qualificato vi offre riparazione bolli da grandine anche senza verniciatura, sostituzione cristalli, lavaggi interni e sanificazioni, autosostitutiva e gratuita, il tutto nel rispetto delle leggi ambientali e di sicurezza. Autocarrozzeria a sella, a Strambino, in via Evrea 40. Telefono 0125 71 15 54 Autocarrozzeria a calmista Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.